benvenuti nell'allegro una parca dell'orrore dove il visitatore è re carne no non è la luna ma è un vulcan per favore e mi presteresti il palloncino per favore mi porto in una zona libera della mappa dove voglio costruire l'attrazione definitiva costruisci falli enormi in giro per la luna no non sono falli ma quello è tutto d'arancia quella cosa e quella è innocua lava questo è il primo test del mio nuovo giochino quello non è bello da vedere quello è un spingitore non gli ho dato un nome perché non l'ho fatto in tempo l'hanno chiuso e non so per quale motivo la prima testa mi soddisfacevano allora per aumentare il divertimento ho leggermente accorciato la barra ora si che ci siamo questi bambini hanno avuto il divertimento della loro vita perché si sono schiamrati? e continuano a venire lì tra l'altro bene tutto spassosissimo ma si può fare di meglio potete aumentare la velocità sono sicuro che se la siano spassata alla grana si anche gli assicuratori sono divertiti in tempo allora perché me l'hanno fatto chiudere? come mai? ma cos'è che è sbagliato? ma visto che nessuno si è lamentato no no ma infatti continuano grazie che non so più non lamentarmi dicevo visto che nessuno si è lamentato allora non mi perdo d'animo e provo con un classico l'ottovolante eh perché non farla a coda anche? noto il fiume è alato penso perché non regalare un bagno a caldo ai nostri clienti e dopo un paio di tentativi che nessuno nasce imparato però potete sono schiattati negli arbori di zucchero filato vabbè altri tentativi poveri bambini ma perché sono bambini? non sono mica bambini sono anche adulti da dentro oh no ecco questo l'ho chiamato pop e vi chiederete perché? oh proprio delicatamente vai a accompagnarli oh ma vabbè divertente vero? no in termini di vetture dai per favore palloncino compra delle carrozze nuove dai palloncino l'avrete visto sicuramente in alto dei mini vulcani perché non far provare i nostri ospiti? cosa vuol dire essere una palla da basket? eh vabbè che simpatica persona è che è eh mickey se ricorda di che con lui ha le gioste non sa di armi no il palloncino con queste attrazioni emozionanti posso farvene vedere altre due la prima si chiama Q-Face come il personaggio di Batman entri triste e esci con un enorme sorriso chiuso in volto oppure Crash l'idea è tanto innovativa quanto è poco originare il nome dell'attrazione e fondere due esperienze di due testi diversi insieme Vabbè però la gente continua direttamente su quell'altro in perterno che bello anche io anche io non ce la fai non ce la fai dai palloncino dai dai vabbè intanto il primo tentativo l'uomo come sempre vado sempre a lungo al primo tentativo ho una dotte che non sa come mai a questo punto non ho capito perché la gente non voleva più salire sulle mie attrazioni ho dovuto anche fare pubblicità al parco per far venire qualcuno ci sarà stato freddo non lo so ho durato un meeting con il CBA nel quale mi volevano spiegabilmente il silurare ce l'ho fatta ce l'ho fatta due tre palloncino palloncino datemi il palloncino pezzi di c***a datemi un po' ma no che radici per niente palloncini cosa volete per i vostri palloncini altro divertimento ecco povera ma no che tutto fa non puoi no ma la stessa è giro no questi erano meccanici animatori in autocombustione ma che il palloncino non è un attrazione questa ma il WF ti arresta il WF volete nell'acid spalla spalla nell'acid balla balla nell'acid è fallito quando stai sulla sabbia che scotta che panna che panna bastardo piu dame il palloncino dame il palloncino dame il palloncino dame il palloncino meno Ah ha 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 ha! Grazie a tutti.